In centro sono già arrivate, per i viali manca pochissimo, parliamo delle luminare natalizie a Firenze. Per consentire l'operazione di allestimento delle luci di questo Natale 2018 sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione in vigore dal 1 al 10 dicembre. Nel dettaglio si tratta di divieti di sosta H24 e di restringimenti di carreggiata a tratti, che nei giorni prefestivi e festivi saranno in vigore H24, nei feriali dalle 9 alle 16.45 e in orario notturno dalle 21 alle 7. Le strade interessate sono Piazza della Libertà, Viale Lavagnini, Viale Gramsci, Piazzale Donatello e Viale Matteotti.